Io non sto andando! Sono sicuro che niente potrà impedirti di superare il record stavolta! I cani perdono in media 7,9 milioni di peli lando. Per aspirarli serve un consumo di 19 kilowattora. Hai ragione, ma io credo di valerne la pena. Per risparmiare energia, prego rimuovere il cane dalla casa. Aspetta, cosa? Benvenuto sulle scale intelligenti! Scale intelligenti! Buon proseguimento! Quanto odio gli aspirapolvere! E tu non riuscirai a tenermi lontano da casa mia! Chiaro, casa intelligente! Che cosa è stato? Porte e finestre sono state sigillate per limitare la dispersione d'aria e ottimizzare l'efficienza termica. Geniale! Se serve ottimizzare l'efficienza della casa, puoi fare quello che vuoi! Voi due consumate più energia di tutta Pork Belly, causando danni del valore di 1,3 miliardi di dollari l'anno. E allora? Con questo che vorresti dire? Voglio proprio vedere se la casa intelligente riuscirà a impedirmi di scavare un tunnel dentro casa! A quanto pare sembra proprio di sì!